Saperne di daremo. Crist, ho qui con me la registrazione dell'omicidio di Phil Amersley. Un motivo di credere che il signor Zewitz possa averle passato del materiale riservato. Ma perché ce l'hanno con me? Guai dal casa che loro vogliono! Io non ho proprio niente! Non sei incredibilmente furbo o incredibilmente stupido? Will Smith, Gene Ackman. Ormai ti resto solo io! Nemico pubblico. Questa sera a 21.20, Rai 3.